Questo è uno dei tanti ristoranti di Kaiten Sushi e praticamente passano tutti i piattini in mezzo ci sono i cuochi io finora ho mangiato tutti questi piattini che comunque non sono tantissimi poi quando passa un piattino che può piacere tipo questi gamberi basta prenderlo e ogni piattino costa 130 yen cioè circa un euro poi qui ci sono le bacchette la salsa di soia praticamente per mangiare il sushi è semplice no? si mette un po' di salsa di soia in un piattino poi con le bacchette si prende il pezzo di sushi si gira si buccia e si mancia in un po' di salsa di wasabi devo dire che qua il sushi non è dei migliori eh però comunque mi accontento queste sono cannocchie vedete qua c'è anche la bella salsa di wasabi che di solito la mettono dentro ma in questo ristorante no non c'è wasabi nel sushi infatti io prima nella salsa di soia ho messo una bustina di quel wasabi sciolta adesso vediamo qualche altro sushi da mangiare e avete visto anche da uno specchio e qui ci sono i cuochi ma questi invece sono tipo altri piatti che non ci sentiamo con il sushi quelle tipo pane brioche non ho capito e qui ci sono tipo brutta verdura grazie 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 Questo è il Kaizen Sushi, poi vi farò vedere un sushi al counter, al bancone.